Un ex amministratore che con molti di noi ha condiviso l'esperienza in amministrativa. Amadeo Pascadali, già assessore al bilancio, vice-sittaco per molto tempo, era una persona che, una brava persona, persona seria, mani sopra le linee, che si è sempre impegnato per la nostra città con un spirito di servizio. E' sempre molto disponibile nel traccio di consiglio, perché tutto non è la complicata materia del bilancio. E' molto apprezzato che a lui si deve l'organizzazione, i rapporti con i paesi genellati, nei quali ti viene ancora ricordato con affetto per la tua capacità e cordialità. Nello stesso tempo, però, vorrei ricordare anche Paolo Colaventi. Paolo Colaventi, forse meno conosciuto, era un indipendente della nostra municipalizzata, che purtroppo qualche mese fa ha avuto un uccidente per lo suo lavoro, un grande uccidente, e da lì poi non si è più ripreso, e qualche giorno fa, per sorprendere complicazioni, è qualche economia. Chiaramente, credo che i due elementi sono un po' legati, le tragici retti, anzi, insomma, c'è stato già ancora alle famiglie per fare le nostre sentite condolianze, sono un po' legati. Entrambi, secondo un ruolo diverso, uno di amministratore, e l'altro ha detto alle condizioni e fredde, ma in un certo modo, contribuito a rendere migliore e più bella la nostra città. Quindi chiedo un minuto di silenzio.